Funziona bene il rapporto dei trentini con i fondi europei. I 500 milioni gestiti dalla provincia per il periodo 2014-2020, praticamente tutti verranno utilizzati. La metà sono soldi dell'Europa, il 30% è finanziato dallo Stato e la provincia mette il resto. Migliaia di trentini ne hanno beneficiato, spiega Michele Michelini, dirigente del Servizio Europa. Abbiamo avuto 7.000 disoccupati che hanno beneficiato di corsi di formazione, oltre 2.000 studenti che hanno beneficiato di corsi di full immersion per inglese e tedesco, di oltre 3.600 insegnanti che hanno beneficiato anch'essi di corsi di approfondimento e di miglioramento per le lingue. Pensiamo anche a 18.000 buoni di servizio per la conciliazione famiglia-lavoro che sono stati erogati dal 2014 ad oggi. Ai fondi destinati all'inclusione sociale e al potenziamento del capitale umano si aggiungono quelli destinati allo sviluppo regionale. 25 milioni di euro per consulenze e attrezzature all'avanguardia per la ricerca ne beneficiano le aziende ma anche l'università, la fondazione Mach e FBK. Altri 20 milioni di fondi europei, spiega Michelini, vengono investiti in sicurezza. Sulle briglie per ridurre il rischio idrogeologico, sui ponti, sui cavalcavia per ridurre il rischio sismico e quindi anche questo è stato accolto dalla Commissione, abbiamo una ventina di milioni che stiamo spendendo su questo.